Cultura e natura pre-promuovere Belluno tra i soci del Touring Club. Il capoluogo sbarca sulle pagine della rivista della società che da oltre 130 anni racconta il bel paese. Si parla di Belluno nel numero di novembre, protagonisti nel mese nel quale la città festeggia il patrono San Martino, i Palazzi del Potere, Palazzo Rosso, Palazzo dei Rettori, Palazzo Piloni e l'Auditorium che verrà riaperto al pubblico d'inizio del 2025 dopo oltre dieci anni di chiusura. Si replicherà poi nel mese di dicembre, in evidenza sulle pagine della rivista del Touring Club, il periodo natalizio con una declinazione specifica dedicata alla natura. Un'operazione promozionale sulla quale l'amministrazione comunale di Belluno punta molto. La rivista del Touring Club raggiunge le case di oltre 300.000 abbonati in tutta Italia, ma il bacino potenziale si attesta su un milione di lettori. Ecco perché la spesa di circa 4.200 euro, pur non essendo irrisorie per le casse comunali, secondo l'assessore della cultura Raffaele a Damiano è ben giustificata. L'esigenza è quella di far conoscere e apprezzare al di fuori dei nostri confini la nostra meravigliosa città, con un partner eccezionale che si occupa da 130 anni della divulgazione delle bellezze della nostra amata Italia e quindi la spesa che l'amministrazione ha inteso fare è stata quella funzionale a far conoscere al di fuori dei confini comunali e provinciali la nostra meravigliosa terra sotto due articolazioni diverse. Sembrava giusto a noi e doveroso far conoscere a tutte le latitudini d'Italia l'immenso patrimonio storico, architettonico, turistico, culturale e ambientale di cui dispone la nostra città e più in generale la nostra provincia. Quindi è una spesa che io credo di poter dire significativa ma allo stesso tempo lungimirante anche perché avrà una platea potenziale di almeno un milione di utenti lettori.